A Piazza del Popolo decine di migliaia di lavoratori di tutta Italia festeggiano i dieci anni delle Acli. Di saluta il presidente onorevole Penazzato. Questi sono testimoni di abnegazione nel lavoro. Scelva ricorda le origini del movimento operaio cristiano. Gli strumenti del lavoro si trasfigurano in emblemi tra le bianche bandiere, come le macchine di una processione il castello di Ferrara. Il peschereccio dei marinai di Pescara. E l'agnello sulle stalle trasforma il donatore in una immagine da presepio. Sono in Piazza San Pietro. Ascoltano il Papa. Affinché vi sia presente questo significato e in certo modo quale immediato contraccambio per i numerosi e preziosi doni. Arrecatici da ogni regione d'Italia, amiamo di annunziarvi la nostra determinazione di istituire come di fatti istituiamo la festa liturgica di San Giuseppe Artigiano. Assegnando ad essa precisamente il giorno primo maggio. Come chiamato dall'ardore degli Evviva per 22 volte ripetutisi, il Papa è uscito dal portone di bronzo. In sedia gestatoria attraversa le schiere. È la prima volta dopo la malattia. E i convenuti sentono quanto valga questo atto compiuto per loro. E adesso i doni paiono anche un pegno della promessa del lavoratore cristiano, testè solennemente pronunciata.